allora professor prodi partiamo da qui ma che è successo c'è una strana come dire una sorta di draghizzazione del del paese a me a lei è mai capitato della sua esperienza di governo di avere delle standing ovation così così importante diciamo no così no ecco perché non c'è mai stato un governo di così larghe intese diciamo così io ho sempre lavorato con delle maggioranze molto ristrette e quindi con tanti problemi ecco però è complessibilissimo come che vi sia stato questo applauso perché è un momento come liberatorio del mondo economico italiano dopo dopo dei momenti così difficili noi siamo arrivati a un momento in cui la domanda di consumo è molto forte in cui noi abbiamo quindi abbiamo quindi una specie di respiro e quindi draghi è stato è stato l'artefice di questo momento liberatorio poi lì della assemblea si è parlato anche di cose serie e draghi stesso ha avuto la finezza di dire attenzione che questo momento di larghissimo sviluppo no in cui siamo oltre arriveremo al 6 per cento almeno di crescita quest'anno deriva anche dal fatto che siamo caduti più in fretta negli anni scorsi e quindi è chiaro che è comprensibile che la ripresa sia più forte